unità cinofile da ricerca istituito un gruppo di lavoro per questa specifica attività del volontariato in sicilia il provvedimento è stato firmato dal dirigente generale salvo cocina che tra l'altro un appassionato di cani lo scorso 30 dicembre secondo l'ingegnere cocina esiste la necessità di potenziare e riorganizzare il sistema che è coordinato a livello provinciale regionale in maniera tale che sia in grado di fornire rapidamente in modo efficiente e professionale supporto nel settore della ricerca di persone disperse in superficie e di persone travolte da macerie o di persone scomparse secondo i piani redatti dalle varie prefetture il gruppo di ricerca tra le altre cose formulando una proposta dovrà definire le procedure la modalità la tempistica la quantificazione degli uomini e dei mezzi al fine di pianificare in maniera razionale la gestione degli interventi delle stesse unità cinofile con particolare attenzione alle modalità destrative e formative delle squadre chiamate a intervenire